Un'alternanza tra temi ricorrenti e novità, con ogni anno una tematica differente ed un sindaco, che per un anno sarà il simbolo e l'incarnazione della manifestazione, col suo carico di valori e morale. Tutto questo ogni anno prende vita con il Paese dei Balocchi, arrivato alla sua quindicesima edizione. Fermo restando la rappresentazione del mondo di Pinocchio, con la tanto amata balena, la casetta di Mastro Geppetto e le figure incombenti del gatto e la volpe dei carabinieri nella naturale collocazione di Piazza Bambini del Mondo. Quest'anno il tema portante della manifestazione sarà l'arte, l'arte non come elemento al di fuori di noi, ma come parte di noi, l'arte che ogni individuo porta in sé e che deve poter tirar fuori, toccando tutti i vari aspetti del mondo artistico. L'arte che può essere anche vissuta come riscatto sociale, come fonte di lavoro, come occasione per poter uscire dalle sabbie mobili della vita, in cui alle volte ci si può trovare, come gli abitanti del rione Sanità di Napoli. Cerchiamo di contattare e esortare le persone più grandi affinché magari possano riscoprire i talenti che hanno e che magari hanno sotterrato per la quotidianità che a volte ci opprime. Soprattutto ai bambini fargli ricercare questi talenti che a volte sono molto nascosti, a volte sono molto semplici, invece ognuno di loro con tante possibilità che hanno oggi di scoprirle, di cercarla e di portarla avanti per tutta la vita. Il sindaco è Don Antonio Loffredo, che è il prete del rione Sanità, che in quel rione è riuscito con i ragazzi a riaprire le catacombe di San Gennaro e di San Gaudioso e gli spazi al teatro, all'arte. E queste catacombe che erano quasi, diciamo, invisitabili fino a dieci anni fa, ora sono meta di turismo e quindi questo ha dato lavoro a tante persone e ha anche una speranza nuova. Impara l'arte e non metterla da parte, recita lo slogan del manifesto di quest'anno, ideato come sempre da QB. Comunicazione con l'ausilio del fotografo Wilson Santinelli e la preziosa collaborazione delle atlete dell'Alma Juventus Ginnastica Fano, ispirato ad un'icona dell'arte pop del secolo scorso, Kittering. È bello ogni anno fare questa locandina perché comunque abbiamo stimoli ogni anno di fare qualcosa totalmente diverso dall'anno prima. Quindi è interessante avere un tema, svilupparlo insieme, avere persone che aiutano, a creare il set e cose del genere. Senti, ma il babbo come fotografo esigente? Sì. Sì, mi ha fatto sudare.